Se vedete questo nuovo video, oggi siamo qui in un video leggendario, perché oggi siamo qui, tornati per la prima volta su questo canale, su Clash Royale, come avete detto dal titolo, non gioco Clash Royale da ben 4-5 anni, quindi non lo so cosa ho messo nel titolo, però barra 4-5 anni, ok? Quindi siamo tornati su Clash Royale, per questo video voglio almeno 10 like, mi raccomando, e molti di voi potrebbero scrivere nei commenti, eh ma l'hai fatto solo perché non mi interessa, io l'ho fatto perché lo volevo fare, so che ormai tutti lo stanno facendo perché, cioè anche chi non ha mai giocato a Clash Royale probabilmente l'ha fatto il video perché è così però, ve lo volevo portare anch'io, sono entrato ieri sera e ho fatto una partita, in realtà, in realtà poi ho spento il suo video, perché ho cliccato battaglia per sbaglio, però oggi andremo a fare la reazione, ma aspetta, ma che carina 4? Ma chi è sta roba? Vabbè, ok, vi dico la verità, abbiamo un altro account, per chi mi crede, mi crede, chi non mi crede, non mi crede, comunque mi raccomando, iscrivetevi alla campanellina, lasciate un like, mi raccomando, arriviamo a 10 like, condividete il video con tutti i vostri amici, avevo un altro account dove ero in Arena 6, purtroppo non ce l'ho più, non so perché, comunque abbiamo un clan che si chiama i re di YouTube, tutto grande, con l'icona dell'Italia, se volete entrare, entrateci e giocheremo anche insieme, Allora, adesso andiamo a vedere un po' il tutto insieme, tipo qua, le squadre ricompense, avremo un po' di bauli, prendiamo qua, scegli, il mega sgherro, ok, 600 d'oro, cosa sono tutte le ricompense, wow, questi qua scegli tutti, mi prendo quel barile goblin che mi ricordo che lo usavo un botto di 50 gemme, Baule gigante, mille di oro, ok, poco, oh, l'epica, ok, ok, niente leggendaria, mi piacerebbe un botto, cos'è sta roba? Jolly, cos'è? Scrivetevi nei commenti cos'è sto Jolly, oddio, ma il baule super magico è cambiato un botto, no, avremoci anche questo baulettino qua, sbloccata la torre infernale? infernale? I Jolly, no, non li voglio usare i Jolly, non so cosa sono, quindi, gli altri, gli altri, fra, what? Abbiamo il mega sgherro che lo potenziamo, lo potenziamo pure, potenziamo a livello 4, potremmo potenziarlo anche più avanti, abbiamo la torre qui dell'infernale, che non ce l'avevo, 10 gemme gratis, wow, baule del re, wow, mamma mia che figata il baule del re, pure un codiciclatore ci può mettere, qua cos'è che c'è? Allora, riscuoti premio, riscuoti, 500 d'oro, riscuoti anche questo, baule della corona, oh, ho sbloccato una nuova carta, i Jolly d'oro, che non so cosa sono, abbiamo qui due gemme, i Jolly, ok, what? Oh, il coso, lo scrittario del fuoco, e la capia goblin, ok, abbiamo anche qua un'altra chest, tre gemme, wow, il domatore dei cinghielli che mi piace un po' anche il mini pecca, la torre qui e il bombardiere, il bombarolo qua. Ne abbiamo un botto, quante ne abbiamo? Fino a livello 9, wow, ne abbiamo un sacco. Due gemme, i draghi d'ossaga, adesso li proveremo, faremo anche una partita, mi raccomando, quindi non schifate il video. Scheretri gigante, finalmente l'ho trovato, GG, ok, Jolly d'oro, per 5, poi, due gemme. Oh, Jolly epica, Jolly epico, Barbary, Scheretri e giganti, ok, altro baule, subito, due gemme, 7 arcieri, 18 goblin, sì, ho sbloccato il pecca, finalmente, che lo volevo, accetta, ok, 25 cannone, ok, due gemme, altri Jolly che non posso avere, quindi ora li userò, 11 goblin, questa e la strega. Andiamo subito ad usare gli altri fatti qui, guarda che ho sbloccato un botto di carta, oddio, posso usare gli altri, aspettate un attimo, come si usano qua? Ecco questi, usa, ma no, ma che schifo, vabbè, usiamoli qua tutti, ok, ok, per ora li lasciamo così, riscuotiamo ancora i primi che abbiamo da riscuotere, ok, abbiamo un'altra cassa qui, oh, lo stregone sbloccato, tanta roba, e il mini pecca, ok, qua sarà un po' tutto da capire. Le nuove carte, tutto, frecce, ci troviamo una leggendaria vola tutto, ovviamente, finiti i bauli? No, ancora, ok, due gemme, barbari, megas, no, i sgherri normali e il megasgherro, abbiamo qualcos'altro? Cos'è? Chiave dei bauli, what? Cos'è? Fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti se voi ci giocate o che cosa, ok, finite le ricompense, ok. Allora, abbiamo un sacco di nuove carte e cos'è? Pass Royale? Se questo video raggiunge i 20 like, scioppo il Pass Royale, lo scioppo a 20 like. Ora, voglio farmi una partita, una partitella, diciamo, mi sistemo un po' il mazzo anche, visto che ho tutte queste potenziamenti dentro questo oro, e andiamo a potenziarci tutto, anche la sfera è infuocata, andiamo, andiamo, ok. Però abbiamo un sacco di nuove carte, no, non per arena, per rarità, no? Ok, questo forse, no? Questo per livello. Abbiamo il pecca, lo scheletro gigante, abbiamo bloccato lo stregone, questo qua e le cose d'ossa. Io farei, siccome so che, no, non faccio così, vado su questo, sul 3 che non uso, lo elimino, e dovrei fare sulla bacchetta magica. Ok, mi ha creato questo mazzo, ma non mi ispira, quindi ne facciamo un altro, e usiamo questo mazzo, ma io direi di usare un attimo il mio mazzo, visto che non gioco da un po', e farci una bella partita su, appunto, su Clash Royale dopo 5 anni. Andiamo e vediamo un po' tutte le nuove carte, come funziona, perché non lo so. Perché io ti ridi? Io c'ho il pollo. Se faccio il pollo, vedi che si vince. Che ti ridi? Allora, io direi gigante con la strega per rimanere, comunque, io facevo sempre così. Gigante davanti, strega dietro, con gli scheletrini che andavano avanti. Quello c'è il pecca, quello mi distrugge una torre, ne sono sicuro. Devo mettere di qua il coso, e di qua devo mettere assolutamente degli sgheri. Non mi giudicate su come gioco, ragazzi, perché non gioco da un po', sono in Arena 4, in realtà ero in Arena 6, però avrei avuto più ricompensi di essere in Arena 6. Però già una torre è andata, ragazzi, già una torre è andata, e forse ci facciamo anche le tre stelle. C'è le tre corone, in realtà, quindi una corona già ce la siamo portata a casa, quindi andiamo di pollo. Oh, se faccio così, una mossa... No, niente, la torre non ce la faccio. Peccato. Però, potremmo giù... Cavacca. Devo far così assolutamente, devo difendere, devo difendere, devo difendere. Devo difendere assolutamente, una torre è già andata, ti prego, domatore, fai qualcosa. Domatore, picca, picchia, 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 almeno un'altra, un'altra. Niente. Il domatore ci ha lasciati. Ho il barile goblin, raga, col barile goblin, fidati. Cacchio. Raga, aiuto. No, non va bene, non va bene, è una situazione brutta, è una situazione brutta, è una situazione brutta, è una situazione brutta che ci siamo salvati di proprio culo atroce proprio. Ora vediamo le tre stelle, le tre corone, voglio fare le tre corone, ti prego, boom! Ti prego! Picconate, picconate! Non è che non è picconata. Teoricamente quella palla di fuoco ce la facciamo? È livello 7, dai. No, togli solo 100. Togli solo 100, siamo fottuti, siamo fottuti. No, raga, siamo morti, siamo morti. Devo mettere il gigante qua per coprire tutto. Ok, drago, devo mettere il draghetto. Raga, aiuto. Sto impanicando, se trovo la fireball lì. Faccio il culo a tutti. No, distruggete quel mini pecca, distruggetelo! Undici di vita! No! Pollo. Eh, prego, grazie, prego, va a cacare, va. Più una corona, ok, ma non ci serve a nulla, che palle, dai! Ce la potevamo fare. Tre corone, possiamo fare un'altra partita, facciamoci subito un'altra partita. Ok, questa dobbiamo vincere, perché se la vinciamo ci sblocchiamo un nuovissimo baule. Bella partita, ma se non è manco iniziata la partita, ma scusami, eh. Non l'ho capito. Perché mi vuoi far vincere se mi vuoi far... Ok, non mi vuole far vincere. Capito. Ah, scusa, scusa, scusa. Dovrei fare... Niente, porca vacca. Ok, stiamo attaccando, stiamo attaccando, ce la possiamo fare stavolta. Dobbiamo portarci a casa tre corone. Almeno due, almeno due corone le voglio per il baule. Mi servono due corone e le voglio, quindi... Vedete di farmi almeno due torri, fatemi distruggere. Ma ragazzi, ma il problema è che questi non mi fanno attaccare. Cioè, ma io gli faccio un po' di danno col goblin, è vero? Questo è vero, gli faccio un bel po' di danno. E li faccio anche parecchio male, però niente di che. Se arriviamo un minuto con l'elizzer doppiato, forse mi servirebbe un estratto di elizzer. Consigliatemi dei mazzi da usare. Vi ricordo col clan che si chiama Re di YouTube. Tutto grande, con lo stemma lì dell'Italia. Quindi mi raccomando, se volete entrare. E ogni tanto magari possiamo giocare insieme, visto che... Porca vacca, il mio gigante se lo pappano tutto. Guarda, guarda come se lo mangiano. Mannaggia. Sì, io butto le carte e questo non mi fa giocare. Ha un minuto, mancano 10 secondi, però il minuto è esatto. Vai, vai, domatore, vai, domatore. Pum, almeno un'altra. Sì. Torre portata a casa. Vai, 60 secondi. Qua, raga, si vince. Ora devo taccare a sinistra, voglio almeno la seconda corona. Vai. Voglio la seconda, voglio la seconda. Voglio la seconda. Almeno due mi servono, raga. Due sono contento, mannaggia, alla Valkyria. Ok, ce la potremo fare perché lui sta impanicando molto, direi. Sta un po' impanicando, forse, non lo so. Dai, domatore, dai, domatore. Picchia, 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 picchia. Ok, abbiamo tutte truppe d'aereo, quindi lui non può farci nulla, diciamo. Finché noi abbiamo due torri, però... Dai, principe. Il prince, beh. Il prince, beh. No. Dai, aiutalo, draghetto. Naggia lui. Niente. Si va più. Va di sì. Due corone. Due corone fatta. Due corone fatta. Non ci succede neanche la centrale, vai, va. Su, forza. Ce la possiamo fare. Vabbè, abbiamo vinto. Vinto il baule finale perché il video finisce qua. Vedi, sette trofei più due corone baule d'oro. Ok, abbiamo sbloccato pure un baule d'oro qua. E forse ho capito come potremmo aprirlo subito. Così inizio a sbloccare. Ho la chiave. Però non la tengo, dai. La tengo e riscuotiamo subito il premio. Abbiamo subito un altro baule. Non è questo. Scusatemi. Ah, questo. Riscuoti premio. Allora, due gemme. Un sacco di gemme. Due arcieri. Otto bombaroli. Niente. Niente carte super... Super chissà co. Si sa che cosa, ok? Però mi raccomando, abbiamo il clare di YouTube. Entrate se volete entrarci. E mi raccomando a 20 rec pass royale da sciopare. Quindi so che ce la possiamo fare. Io non ho nessun problema a sciopare. Ora userò anche le nuove carte perché le voglio provare. In quest'area mi manca solo l'orda di scheletri e il minatore. Quindi veramente un sacco. Ma fammi vedere un attimo le carte nuove perché non le ho viste. Ma che sono queste carte? Cos'è sta? Il pescivindolo. Che bello. Un pescivindolo. Ma sono carte strabelle comunque. Fatte benissimo. La domaltrici. Questa qua la conosco. Questo lo conosco pure. Un po' le conosco. Comunque io spero che questo video, il ritorno su Clash Royale, vi sia piaciuto. Se così fa, se iscrivetevi, iscrivetevi alla campanellina. Lasciate le commentate e condividete. A 20 like shoperemo il pass royale. E se volete entrare, il clan è pubblico. Servono 0 coppe. Potete entrare anche se avete 0 coppe. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!